Ecco alcune spettacolari immagini di un arresto fatto dalla Polmetro. I protagonisti sono due algerini e un francese che da giorni borseggiavano i passeggeri nella stazione metropolitana di Loreto a Milano. Per distrarre la vittima, uno dei tre fingeva di far cadere un mazzo di chiavi per terra, mentre gli altri due provvedevano a sfilare i portafogli. Beccati in flagranza dagli agenti, ne è nato un inseguimento finito sui binari della metro. Grazie a tutti.